Ciao a tutti ragazzi, buonasera, io sono Celestino, questa sera sono qua a Misano Adriatico, ragazzi siamo sulla riviera Romagnola, siamo una quantità spropositata di persone, centinaia di persone ragazzi in questo mercoledì sera, che qualcuno potrebbe definire di quaresima, ma per i singoli in tour, non esiste quaresima, non esiste penitenza, siamo veramente tantissimi, siamo a Misano Adriatico, partiamo con questa fantastica diretta e serata, prego, eccoci qua, Sigismondo Allora ragazzi, ragazzi, buonasera a tutti, fatemi sentire un applauso, un applauso che si senta al fine in cucina, più forte, più forte, ragazzi abbiamo 200 mani questa sera, bisogna che l'applauso sia per quanto forte, siamo veramente tantissimi, grazie di essere qua, così numerosi, buonasera a tutti, io mi chiamo Celestino, sono colui che ha inventato questo format che si chiama serata dei singoli in tour, noi facciamo circa 5 serate alla settimana, già da 15 anni e mezzo, poi tutta l'Emilia Romagna, in tutta Italia, eccetera, abbiamo 330 mila persone che ci seguono e questa sera siamo qua, ieri eravamo, non mi ricordo neanche, eravamo a Lido di Volano, esatto, dopo domani saremo a Modena, il giorno dopo saremo a Reggio Emilia, il giorno dopo conosceremo a Bologna, prossime settimane, allora ragazzi di cosa faremo di bello noi qua stasera, noi siamo qua per mangiare e fra poco...